Ciao ragazzi. Allora, dopo partita di Sampdoria e Juventus. Allora, dove cominciamo? Cominciamo col dire che ci siamo presentati anche quest'anno con in campo contemporaneamente Alexandro e Rugani del primo tempo. Nel secondo tempo con Rugani e Decilio. Questo è un problema, secondo me, che andava risolto. Ancora più che il centrocampo. Quello dei terzini è un dramma che ci portiamo dietro da troppo, tanto tempo. Comunque, partita bruttina, direi. Ritmi bassi, tempo effettivo sarà stato di 25 minuti forse. Partita che è iniziata subito malissimo, perché in difesa quello che forse, anzi senza il forse sicuramente la nostra arma migliore, Bremio, fa subito un liscio, l'amoroso, e mette a tu per tu l'attaccante da Sampdoria con Perin che fa un miracolo che con la gamba che si è deviata sulla traversa. Altrimenti, pronti via, eravamo già 1-0 per Sampdoria. Dopo un quarto d'ora circa, quadrado, secondo me, poteva fare meglio. Invece che tirare in voto potrà servire Vlaovic o Kostic dall'altra parte. Comunque non concludere in porta e comunque se concludi in porta non tiri in bocca il portiere. Detto questo, veniamo ai voti che è meglio. Allora, Perin, voto 7. Non è stato impegnato, se non in quell'occasione, nel primo tempo, dopo due minuti. Per il resto, ordinare amministrazione, comunque 7 perché salva il risultato e comunque Perin per me è un buon portiere. Io lo farei giocare più spesso perché con Ciesny, secondo me, se la gioca abbastanza. Danilo. Danilo è partito da 6. Da 6 non fa grandi cappelle. E' un 6. E' un 6 perché ha fatto il suo e niente di più. Bremer, dopo quel liscio iniziale, diciamo anche lui che non ha dovuto fare grandi cose, però quella liscia poteva costarci la partita. Il 6 comunque, secondo me, non se lo porta a casa. Non se lo porta a casa, gli do 5 e mezzo. Rugani. Rugani, a me personalmente, fa pietà. Fa pietà, però anche lui questa sera ha fatto il suo, il compitino. Non mi dà mai quel senso di sicurezza che dovrebbe dare un difensore. E anche lui non ha fatto sbavature. Gli do un 6. Alexandro. Alexandro è la pietà in persona. è una roba inguardabile. Ma veramente inguardabile. Cioè, è un giocatore finito da ormai tre anni. E questo ci siamo. Ed è scandaloso che lui riesca sempre comunque a partire titolare e a far partire in altre squadre, altri giocatori giovani che prendiamo regolarmente tutti gli anni. Pellegrini è andato via, cambiassero andato via. Lui riesce sempre a giocare, a fare schifo. Perché lui fa schifo. È stato anche ammunito e nel secondo tempo Allegri l'ha lasciato in panchina, giustamente. A mio modo di vedere non dovrà neanche partire titolare. Però, chi c'è al suo posto? Deciglio. Parleremo dopo di lui. Comunque, Alexandro 5. Centrocampo. Centrocampo McKennie detto il cocorita. Perché oramai con quel ciuffo biondo lì sembra una cocorita. Lui questa sera vagava per il campo a caso. A caso, perché non sapeva neanche lui dove era. Forse non ha mai azzeccato un pallone. È stato inquadrato più bonucci di lui. Questo è tutto dire. Vuol dire che non ha toccato una palla. Ha fatto schifo. McKennie 4. Locatelli. Locatelli... Eh, Locatelli... Locatelli... Tanto impegno. Probabilmente non ha fatto un passaggio giusto. Ha rischiato anche lui di essere ammunito con un'entrata non bella. È una partita che non dice niente per lui. Al 6 non ci arriva. Un 5 e mezzo. Lui viene da lui e mi aspetto un po' di più. Perché io me lo ricordo comunque a Sassuolo che era un altro giocatore secondo me rispetto a questo. Io non so perché. Se è un fattore che gioca fuori ruolo. Non lo so. Comunque non rende come Sassuolo. A me ancora non convince Locatelli. Speriamo di vederlo magari con a fianco Pogba e Di Maria. In mezzo i buoni. Anche quelli un po' meno buoni risultano più buoni. Quindi da rivedere secondo me ancora Locatelli. Non bene così. 5 e mezzo. Rabbio. Sì, rabbio. Rabbio è lo specchio di questa società secondo me. Allora un giocatore che doveva essere al Manchester United. Ok? Quindi fuori dal progetto. Tu te lo ritrovi ancora una volta titolare. Che è una roba pazzesca. E se non era per questione di millimetri. Rabbio ti risolveva la partita stasera. Perché il gol fuori gioco era suo. Quindi tu ti portavi a casa 3 punti con un gol di Rabbio che doveva essere al Manchester United. Pazzesco. A parte quell'azione comunque Rabbio. Fa anche lui. Il centrocampo stasera comunque un po' tutti male. Non mi sono piaciuti. Anche lui il solito. Il solito Rabbio che vediamo sempre. Che lui è un 5 e mezzo. Perché il 6 non ci arriva. Kostic. Kostic non è chiesa evidentemente. Però può venire utile. Però Kostic bisogna servirlo. Siamo sempre lì. Cioè a noi, a questi giocatori sulle facce, vi doverà i palloni. Perché i palloni devono arrivare a Vlaovic. Ecco. A Vlaovic dopo ne parliamo. Però se a Kostic non arrivano palloni è dura che li mette in mezzo. A un minuto dalla fine poteva regalarci la vittoria. Ha fatto un tiro al volo purtroppo in bocca a Udero. Perché Udero sì ha fatto una parata plastica. Ma potrà stare in piedi secondo me. Parla così. Comunque Kostic io penso che nell'arco del campionato può diventare utile. Io stasera li do 6 però. Perché ha fatto il suo. Non ha fatto grandi cose. Non ha fatto delle grandi cazzate secondo me. Ha fatto un tiro deviato in quel tempo dove Udero l'ha parata mettendola in angolo. Quindi dai. I 6 glielo diamo. Quadrado. Quadrado per me ha sbagliato. Nel senso che non doveva tirare in porta in quell'occasione. Però al seno di poi. Essendo tutti bravi puoi giudicare da dopo. Quando sei lì evidentemente lui aveva visto che la possibilità di passaggio non c'era. La linea. E quindi ha tirato in porta. Però potrei tirare meglio. Perché ha tirato in bocca al portiere. Gli ha tirato in bocca. Poi sfiga. Cioè la palla non è che torna indietro. No sta lì. Sta lì. E Udero la prende. In un secondo momento. Lui corre tanto. Sempre si impegna. E a Quadrado non puoi mai dire lì niente. Dai. Anche quando fa delle brutte partite. Il suolo. Ci mette sempre la grinta. Io a Quadrado. Tutto sommato gli do 6. Dai. Vlaovic. Che voto gli diamo Vlaovic? Vlaovic. Allora qua. Secondo me. C'è un grosso problema. Allora. Lui secondo me. Si muove ancora male. Un mio parere personale. Quando gli arriva palla. Spesso e volentieri. La perde. O appoggia male. Lui in queste cose. Deve migliorare. Questo qua. Secondo me. La sua grande pecca. Che ancora. Deve proteggere di più la palla. E tenerla. Però. Non gli arrivano palloni. Cioè il discorso è questo. Se tu in 90 minuti. Ti arrivano tre palloni. Fai anche fatica. Fai anche fatica. Stessa cosa. Di Locatelli. Speriamo che. Con. Di Maria. Questo l'abbiamo già visto. Nella prima partita. Con Di Maria. Comunque. Fraseggiava. Un po' di più. Ecco. Comunque. Se gli arrivano i palloni. Lui lo butta dentro. Ma soprattutto. Con Pogba. Che Pogba. Secondo me. Può essere veramente. Quello. Che lo mette davanti alla porta. Purtroppo. Gli sindogampisti. Ora sono questi. E i palloni fanno fatica a girare lì davanti. E siamo sempre qui. Il problema. Che c'era l'anno scorso. Non è stato risolto. Quindi Vlaovic. Allora. Per me. Allora. Ok. Aveva fatto. Quel bel assist. N'occasione del gol annullato. Però. Cinque e mezzo. Sei. Non ci arriva. Dalla panchina. Allora. Dalla panchina. Deciglio. Deciglio. E deciglio. Cioè. Cosa pretendi da deciglio. Cosa vuoi da deciglio. Un cazzo. Fondamentalmente. Lui non ti fa mai un cazzo di bello. C'è sempre da sperare che non faccia il brutto. Stasera il brutto. Non l'ha fatto. Sei. Mattia. Hai fatto. Quello. Che devi fare. Non delle cagate. Quindi sei. Miretti. Miretti. Non è entrato male in campo. Secondo me. Poteva anche giocare titolare. Miretti. Al posto di McKennie. Da subito. O di Rabiot. Penso. Miretti. È un buon prospetto. Secondo me. Già l'anno scorso. L'abbiamo visto. Io lo farei giocare un po' di più. Piace. Hai i tempi di inserimento. Secondo me. Hai buon piedi. Io gli do sei. Miretti. Rovella. Rovella si è trovata una bella palla. Al limite dell'area. Dove secondo me. Potrà concludere un po' meglio. Almeno centrare lo specchio. Mio modestissimo parere. Comunque ha giocato pochi minuti. Per lui era un po' un clima derby. In quanto l'anno scorso giocava nel Genova. E vabbè. Cosa gli vuoi dare Rovella? Facciamo un SV. Un SV perché. Non ha dato niente. Invece. Non mi è dispiaciuto Ken. Quando è entrato. Ken. Bello l'assist che ha fatto per Costis. Alla fine. Comunque. Meglio di altre volte. Di quando è andato in campo. Sembrava un del paresidio. Cioè una roba vergognosa. E poi una roba che vorrei dire a Ken. Io gli darei sei. Per la partita. Ma gli darei. Un tre. Per quelle pettinate lì. Basta. Cioè basta. Stai continuando a cambiare delle pettinate. E ti devi rendere conto che fai schifo con tutte. Fai schifo. Veramente schifo con tutte. Questa qua cos'era? Capelli tipo cipolla dietro. Sembra la mia nonna. La mia povera nonna che non c'è più tra l'altro. Comunque. Dai. Sei. Perché. Si è impegnato più di altre. Di altre volte. Ha fatto meno schifo del solito. Insomma. Allegri. Che voto gli vogliamo dare ad Allegri? Allegri. Un cinque e mezzo. Perché io sinceramente. Un gioco in questa squadra. Non lo vedo. Sarò ripetitivo. Probabilmente con. Con quelli che mancano. Con i chiesa. Sì. Perché ci siamo dimenticati anche di chiesa. Prima. Mi sono dimenticato. Di citarlo. Che anche. Che con lui. Probabilmente. Avremo più. Occasioni da reti. Creeremo di più. È vero. Che adesso. Allegri. All'attenuanti. Di tanti infortuni. Però. Insomma. Io. Faccio un po' la fatica. A vedere un'identità di gioco. Di questa squadra. Ecco. Cioè. A me. Sinceramente. Come ne gioca la Juve. Non piace. Che poi vince. Ok. Anche la prima partita. L'abbiamo vinta. Con il suo suolo. Però anche lì. Abbiamo fatto dieci minuti. Nel primo tempo. Dove. Eravamo tutti indietro. Non si riesce a capire. Perché noi. Dovevamo sempre stare lì indietro. Non si riesce a capire. Perché dobbiamo fare. Dei contropiedi. 70 metri a balla. Sempre. No. Perché. Perché. Devono ripartire. Tutti a balla. Quindi. Dopo quattro volte. Che fai dei contropiedi. Di 70 metri. Sei già spompo. Arrivi davanti alla porta. Che figa. Sei distrutto. E poi ci incazziamo. Noi. Perché tirano da merda. Ma figa. Fatelo voi. Continuare a fare 70 metri di corsa. Avanti indietro. A manetta. Eh. Non è facile. Non è facile. Niente. Insomma. Dai. Ci portiamo a casa. A questo pareggio. Soprattutto. Non aver ancora subito gol. Per fortuna. Grazie a Perin. E. Adesso vediamo sabato. Sabato contro la Roma. Che sarà. Un vero e proprio. Un vero e proprio. Prova del 9. Per questa Juve. Adesso oggi. Sembra che. Zaniolo. Che ci sia uscito alla spalla. Non so se recupererà. Però la Roma. Insomma. Una bella squadra. Quest'anno. Soprattutto. Che vedremo Dybala. Vediamo come si presenterà Dybala. Sperando che non si sblocchi. Proprio contro di noi. Perché noi siamo capaci. Di far risuscitare. Antimorti. E. Niente. Noi. Ci sentiremo ancora dopo. Per il dopo partita. Di Juve Roma. Vedremo. Vedremo. Se riusciremo a fare qualche tiro in più di stasera. In casa. Speriamo. Durante il nostro pubblico. Di fare una bella partita. Niente. Io vi mando la buonanotte. Ci sentiamo. Sabato sera. Ciao a tutti.